buongiorno a tutti e benvenuti a un altro dei nostri incontri del ciclo essere cittadini del mondo una serie di appuntamenti oramai diventate diversi che con uno sguardo multidisciplinare cercano di farci riflettere sui grandi temi della contemporaneità e oggi siamo qui insieme alle colleghe florinda cambria e agua amor che saluto e parleremo insieme di un tema di grande attualità dal titolo anche insomma direi accattivante islam e islamofobia dicevo un argomento di grande attualità se ad esempio si pensa al referendum che non più di tre mesi fa stiamo parlando del domenica 7 marzo ha chiamato alle urne i cittadini svizzeri chiedendo loro di votare a favore dell'introduzione di una legge che vieta la copertura totale del viso in pubblico in pubblico spazio ora va da sé che la legge non si riferisce esplicitamente al mondo delle donne musulmane si trattava si tratta di una proposta di legge contro la dissimulazione del volto e quindi rivolta contro gli hooligans contro i manifestanti di piazze violenti che si nascondono nascondono il loro volto dietro sciarpe dietro passamontagna per non farsi individuare dalle telecamere non di meno in idea hanno sottolineato hanno non hanno mancato di definire quella legge come la legge sul divieto del burca perché questo perché il partito promotore di quell'iniziativa di quella legge che è l'unione democratica di centro un partito espressione della destra conservatrice svizzera non ha mai neanche fatto finta di nascondere che tra i suoi principali obiettivi vi fosse proprio quello di vietare i capi di abbigliamento usati da alcune donne musulmane in particolar modo i capi di abbigliamento musulmani che coprono interamente il corpo e il viso noti come burca o come niqab teniamo presente che in tutta la svizzera il numero di donne che porta il niqab o il burca è da un minimo di 36 a un massimo di 130 su una popolazione di credenti dichiarati di poco meno di 500 mila unità quindi insomma fate voi le proporzioni e le debite considerazioni ora a mio avviso però occorre fare una riflessione rispetto alla proposta di questo referendum e soprattutto rispetto al risultato elettorale di questo referendum perché perché il 51,2 per cento della popolazione chiamata le urne ha votato a favore della legge ora si tratta di un risultato non certo plebiscitario ma comunque si tratta sempre della maggioranza un risultato che è stato raggiunto perché l'iniziativa che certo è stata promossa dalla destra conservatrice svizzera quell'iniziativa però ha conquistato consensi in un modo un po' trasversale all'interno della popolazione svizzera è andata a pescare voti nell'elettorato di centro certo in quello di destra ma è andata a pescare i voti nell'elettorato di centro è andata anche a pescare i voti in una parte più o meno larga della sinistra in particolar modo di quell'ala più femminista della sinistra svizzera che legge nel velo integrale un mezzo di sottomissione e non certo una possibile scelta ora mi viene da pensare a fronte di questo risultato che indipendentemente dal credo politico forse gli svizzeri condividano indipendentemente dal credo politico lo sottolineo un sentimento direi comune rispetto al tema dell'islam un sentimento diciamo di ostilità quando non di paura quando non di fobia nei confronti dei musulmani ed è un sentimento che è andato crescendo notevolmente negli ultimi decenni ma sappiamo tutti benissimo che è un sentimento non certo circoscritto alla sola svizzera ora l'islam che è la terza tutti noi sappiamo è la terza religione rivelata in ordine di apparizione dopo l'ebraismo e dopo il cristianesimo è innegabile che sia stata una presenza costante nella storia e nella vita del mondo europeo se vogliamo del mondo occidentale ma ancora prima del mondo europeo ma è altrettanto innegabile che nel corso dei 14 secoli di storia cioè da quando l'islam si è affermato insieme accanto alle sue sorelle maggiore cioè accanto all'ebraismo e accanto al cristianesimo dicevo è innegabile che nel corso di questi 14 secoli di storia contrassegnati da conflitti anche sanguinosi ma contrassegnati anche da direi profonde contaminazioni dicevo è innegabile che nel corso di questi 14 secoli o dopo questi 14 secoli è successo nei paesi europei quello che per i secoli di età moderna era impensabile cioè cosa? cioè l'islam quello che è il nemico storico per eccellenza è diventato la seconda religione del continente europeo e anche è diventato la seconda religione della penisola italiana dello stato italiano ora questo mondo islamico sempre percepito come altero, come nemico, come lontano oggi vive o meglio dovrei dire oggi convive sullo stesso territorio del suo nemico atavico cioè l'europeo insomma i due nemici atavici convivono, stanno porta a porta si tratta di due mondi sicuramente distanti o forse sarebbe meglio dire sedicenti distanti che si sono combattuti sicuramente per secoli e che oggi coabitano ma forse aveva ragione l'antropologo Levi Strauss quando in una delle sue tante opere in particolar modo mi torna in mente la opera Tristi tropici affermava Strauss, Levi Strauss, che nei suoi lunghi viaggi attraverso i paesi musulmani tutta questa diversità lui non l'aveva percepita tutta questa alterità non l'aveva riscontrata anzi quasi provocatoriamente Levi Strauss diceva che tutto sommato l'Islam altro non era a suo dire che l'Occidente dell'Oriente quindi per Levi Strauss Islam e Europa o se vogliamo allargare Islam e Occidente erano due mondi culturali attraversati e caratterizzati da difetti molto simili ed erano due mondi culturali che erano figli dei medesimi miti quindi le origini di questi due mondi insomma tutto sommato tanto distanti non erano nonostante ciò però Islam ed Europa o Islam e Occidente pur non essendo così diversi come Levi Strauss sottolineava si sono sempre percepiti come diversi e a mio avviso questo è quello che conta perché questo è quello che dà forma all'immaginario collettivo che valeva secoli fa e che per molti versi vale ancora oggi ora noi sappiamo che nel corso dei secoli l'Europa ha invaso e conquistato i territori del mondo islamico basti pensare per fare un solo un esempio alla colonizzazione sfrenata ottocentesca del continente africano poi però l'Islam possiamo dire che ha restituito il favore di questa conquista attraverso l'immigrazione quindi prima gli europei li hanno conquistati e poi il mondo islamico ha restituito il favore in che modo? attraverso l'immigrazione cioè attraverso l'arrivo di centinaia di migliaia o forse dovrei dire di milioni di migranti in cerca di una vita migliore nei paesi occidentali ed europei al punto che, e sto quasi per chiudere e passo la parola a voi al punto che oggi non si può più parlare è anacronistico parlare di islam e occidente oggi l'islam è senza dubbio in occidente cioè è un dato di fatto e a mio avviso un altro dato di fatto che deve essere tenuto in debitissima considerazione è che ormai si sta costruendo un islam di occidente cioè un islam che cresce in occidente con le terze generazioni con i figli degli immigrati nati in occidente ma nonostante ciò la fobia c'è l'islamofobia è tangibile nell'immaginario popolare i musulmani continuano ad essere percepiti come gli altri per antonomasia quando non una vera e propria minaccia e vabbè qui i fatti di cronaca con cui si è aperto il ventunesimo secolo certo non hanno aiutato è al punto che si parla infatti di islamofobia islamofobia che è la paura fondata su stereotipi su luoghi comuni figli della strumentalizzazione strumentalizzazione di pensieri e di conoscenze ma ancor più secondo me negli ultimi periodi sono l'islamofobia è figlia della strumentalizzazione di episodi di cronaca che fanno notevolmente presa sulla pancia della gente e quindi e qui vado veramente a concludere con questa considerazione a fronte della cronaca l'islamofobia non mi sembra un'esagerazione certo in determinati contesti e in determinati momenti definirla come una sorta di pericoloso razzismo subdolo cosa intendo? una forma nuova se vogliamo di razzismo subdola perché? perché è un razzismo che si esprime con il respingimento col semplice magari respingimento ma semplice e profondo acuto che fa male o anche con una netta e percepibile separazione all'interno dello spazio pubblico ora mi piacerebbe sapere da voi se questa mia definizione di islamofobia che a mio avviso può essere considerata un razzismo magari sotto mentite spoglie o sotto spoglie diverse è una lettura che può a vostro avviso avere un senso oppure invece è una lettura che si fa prendere da quelle che sono le strumentalizzazioni dei fatti di cronaca quindi direi che io mi taccio lascio la parola a voi e lascio la parola ad Agua se vuoi intervenire tu per prima se siete d'accordo sì allora Katia penso che hai toccato dei argomenti molto molto attuali e complessi e su quale mi piacerebbe tornare già su hai parlato di una evoluzione anche dell'islamofobia cioè che c'è questa idea dell'islamofobia coloniale nel senso che sappiamo che il Mediterraneo è stato il terreno di incontro bellicuoso tra l'Oriente e l'Occidente tra l'Islam e il mondo cristiano e questa Mediterranea questo mare nostro fino adesso rimane sempre un luogo di sia di frontiera di lotta e di contrasti quindi su questo direi non è cambiato quasi niente invece io vorrei tornare su l'islamofobia in quanto stigmatizzazione religiosa ma non solo non dimentichiamo che ad esempio in io parlo della Francia perché sono specialista della Francia ma vediamo che il fenomeno può anche essere applicato in tanti altri paesi europei questa stigmatizzazione etnica perché siamo passati ad esempio in Francia da un razzismo una stigmatizzazione dell'arabo musulmano pensando che chi è arabo è per forza musulmano e che il musulmano è per forza arabo quindi una doppia stigmatizzazione etnica e religiosa e con l'apertura dei flussi migratori come l'hai sottolineato dopo la decolonizzazione da tutte le parti degli ex imperi coloniali sia inglesi che francesi abbiamo visto che il musulmano non è solo l'arabo può essere anche serbo bosniaco ma che sono in tante minoranze ma soprattutto pakistano indonesiano e l'arabo non è solo musulmano può essere come i siriani i cristiani d'oriente i palestinesi ricordiamo che Arafat palestinese musulmano ha sposato una palestinese cristiana quindi questo questi amalgami queste stigmatizzazioni etniche e religiose sono evolute verso una cioè la minaccia diciamo la problematica della minaccia arabo-musulmana si è sviluppata verso una problematica islamofobia dell'islamofobia cosa come possiamo pensare capire questo concetto di islamofobia allora c'è l'immo islamofobia c'è paura dell'islam e questo vediamo che effettivamente la paura la minaccia dell'islam serve a giustificare una politica difensiva e punitiva nei confronti dei musulmani cioè delle persone che si difendono definiscono come musulmani che appartengono alla religione islamica un po' di problemi sui concetti perché noi usiamo il termine musulmano invece in Italia si usa molto il concetto di islamico che c'è da discutere su questo comunque c'è stato un passaggio all'azione nella politica punitiva nei confronti dei musulmani sempre accrescendo sempre più forte e questo non solo in Francia ma in tutto il mondo occidentale soprattutto dal 2001 con gli attentati a New York lì c'è stata veramente un'esplosione di islamofobia in tutto il mondo contro di chi contro prima i segni visibili dell'islamità che hai parlato prima del velo al velo possiamo anche parlare della barba la barba maschile che è un segno di appartenenza all'islam perché è un segno non solo di virilità come possono essere le moustache baffi per l'impero ottomano invece la barba è più un segno di appartenenza all'islam perché il profeta ce l'aveva la tratteneva bene era un gioiello diciamo la barba quindi la barba è un segno anche religioso può essere definito infatti le barbu sono i fondamentalisti quindi i segni visibili dell'islamità che possono essere i vestiti il velo la barba ma anche attacchi ai luoghi di culto ma da dove viene questa islamofobia allora in quanto riguarda l'Europa questa islamofobia si aggiunge a un rapporto traumatico alla colonizzazione e soprattutto alla decolonizzazione io penso alla Francia e penso ovviamente alla guerra d'Algeria che ha stravolto la società civile e politica francese nel periodo della guerra d'Algeria e c'è anche altri attacchi c'è stato lo sviluppo sempre più forte soprattutto da 2001 di una islamofobia professionale soprattutto delle compagnie aereine non so come si dice aeroporti l'aeroporto di Paria ad esempio ha avuto tanti casi segnalati da chi questa islamofobia professionale non dalle vittime dai sindacati i sindacati hanno dato l'alerta dicendo che c'è una esclusione professionale su criteri etno-religiosi preoccupanti da 2001 soprattutto nelle imprese legate ai trasporti aerei quindi sappiamo benissimo l'ha detto bene Katia illustrando il caso della Svizzera che l'islamofobia è diventato un enjeu politico posto in gioco ma maggiore per la cena politica soprattutto da alcuni politici che aumentano noi abbiamo il nostro Salvini qui in Italia in Francia abbiamo Le Pen in Autrici abbiamo altri quindi l'extrême droite che aumenta il sentimento antimusulmano contro i loro propri cittadini perché non dimentichiamo che questi cittadini musulmani sono o italiani o francesi o inglesi o tedeschi eccetera quindi hanno un'azione d'esclusione verso i loro propri cittadini quindi è lì che c'è veramente il sentimento di rottura della coesione sociale della coesione della nazione perché uno dice ma sono francese ma non sono francese perché sono musulmana quindi c'è un sentimento che abbiamo visto anche quando abbiamo parlato della moda del velo di occupare lo spazio occupare lo spazio in quanto cittadino ma al nome del del di securità della sicurezza al nome della paura del dell'islam c'è una strumentalizzazione della paura come risorsa elettorale e lo vediamo soprattutto a livello comunale noi abbiamo in Lombardia che ha avuto il caso di Lodi che ha tagliato l'accesso all'immense per i bambini lì non si parla solo di islamofobia ma di come dire stigmatizzazione etnica in Francia ci sono tantissimi casi ne cito solo uno perché il personaggio è abbastanza interessante che si tratta di Manuel Valls che è stato comunque al governo che nel 2002 era sindaco della città di Evry e che ha obbligato un negozio a vendere maiale alcolici ecco quindi gli esempi sono tantissimi e servono a usare un discorso di paura per occupare il terreno politico e impossedirsi dei voti prima hai parlato dei segni di islamità che sono attaccati c'è in Francia e anche in Svizzera con questo referendum un dibattito pubblico molto forte attorno al velo in Francia è più il puritanismo repubblicano diciamo che prende questo soggetto nel senso che l'interdizione al proibitionismo del velo servirebbe a reaffirmare la laicità la santo sacra laicità francese votata in 1905 una reaffermazione laicità è una pietra angolare della repubblica francese e il velo deve essere fermato perché è un attacco diretto a questo principio e quindi bisogna fermare la penetrazione massiva del velo nel paesaggio francese il problema è che lì come dicevi non c'è più adesso in questo discorso del velo solo l'estrema destra i partiti razzisti ci sono anche i repubblicani che sono anticoloniali ma sono iper repubblicani e vedono nell'autorizzazione del velo nelle scuole nello spazio pubblico come un tradimento alla repubblica tollerare i segni religiosi a scuola tollerare il velo a scuola è un tradimento alla repubblica ok quindi c'è stato questo caso in 89 che ha fatto tante polemiche in francese il consiglio di stato ha deciso che si può portare il velo nelle scuole come altri segni religiosi ma il proselitismo è interdetto e lì ci sono i femministi che hanno visto in questa decisione del consiglio di stato il consiglio d'età un tradimento della repubblica ma anche un asservismo una schiavitù della donna in un patriarca cioè la vincita del patriarcato quindi a tal punto il dibattito poi c'è stato un dibattito che è riapparso in 2003 perché non si capiva non si capiva perché dal punto di vista del paesaggio c'erano meno donne velate però il dibattito è tornato in 2003 dopo l'esattata di 2001 quindi c'è stato proprio questa salita questo aumento dell'islamofobia molto forte e quindi ha rimesso in dibattito la questione del velo anche se i dati non l'avrebbero permesso e lì c'è stata una commissione che ha pensato dire ok noi cosa ci interessa ci interessa l'uguaglienza tra i sessi ci interessa che dobbiamo dare alla fede musulmano uno spazio in Francia controlla dare uno spazio vuol dire controllare controllare questo spazio e e poi ci pone il problema dell'integrazione dell'identità di questi francesi di questi europei musulmani li accettiamo non li accettiamo se rimangono lasciamo spazio alla loro fede sul territorio nello spazio pubblico cosa ne sarà della nostra identità francese o italiana eccetera eccetera quindi si sono sovrapposti delle questioni su proprio al di là della della paura dell'islam la paura di una religione che è stata sempre la religione che aveva in realtà le stesse ambizioni cioè comandare il mondo il mondo cristiano il mondo musulmano sono contrastanti perché hanno i stessi obiettivi l'universalismo l'universalismo esatto quindi siamo passati da un'evoluzione verso un universalismo conquérant e missionario questo anche come la Francia si è imposta nel mondo coloniale quindi penso che l'islamofobia deve essere interrogata su come l'islamofobia viene associata alla memoria nazionale di ciascun paese cioè si tratta di reattuare di rimettere al gusto del giorno di un conflitto teologico plurisecolare oppure e io credo che sia la seconda l'islamofobia oggi è il prodotto della secolarizzazione del mondo occidentale cioè che il razzismo antimusulmano è in realtà il frutto di una ideologia razzista post-revoluzionaria quindi la domanda la giriamo a Florin vediamo cosa ci dice sì grazie un domandone di quelli spaventosi io quello che posso fare è dare un riscontro molto limitato più che risposte di grande respiro in questi termini mi sembra che entrambi i vostri interventi abbiano segnalato due direzioni del problema una diciamo così strettamente legata alle contingenze del nostro tempo a partire dal 2001 poi è questo ma Hawa in realtà è andata un po' indietro e ha ricordato come in verità in particolare per il mondo francese il processo della decolonizzazione abbia già attivato ma siamo diciamo in una storia recente i fatti della storia recente diciamo così che funzionano spesso come detonatori di elementi che vengono da un'altra traiettoria la seconda traiettoria da voi indicata che è una traiettoria invece che non si riesce a circoscrivere dentro la fatticità degli eventi e infatti sono traiettorie che attraversano i fatti e le epoche pur mutando trasformandosi molto lentamente come una dimensione diciamo transistorica rispetto ai fatti storici e questa dimensione ha a che fare secondo me con il grandissimo problema anzitutto antropologico della costruzione dell'identità e quindi del rapporto con le differenze e poi ha a che fare invece più in dettaglio con la questione diciamo più circoscritta di ordine politico dottrinale legata al concetto di libertà e di convivenza di diritti di espressione diritto ad espressione e di convivenza tra le differenze tema che sapete benissimo è al cuore della riflessione filosofica nell'ambito delle dottrine politiche moderna cioè lì dove come dire lo Stato l'istituzione statale smette di essere e questo accade diciamo a partire dal 5-600 insomma anche se con tempi un po' sfasati in Europa smette di essere la realtà diciamo l'istituzione politica smette di essere fusa con quella religiosa o comincia il processo lento della differenziazione lì la questione su cosa si basa l'appartenenza ad una istituzione diciamo statale questa domanda comincia a galoppare e sappiamo che il padre il fondatore del liberalismo moderno John Locke nel 600 filosofo inglese lui che è l'autore di un saggio importantissimo che appunto è il saggio sulla tolleranza mentre rivendica la centralità della convivenza tra differenze mentre rivendica la centralità della convivenza tra differenze e quindi della tolleranza reciproca tra le diverse espressioni diritto di espressione infatti si dice delle diverse espressioni delle idee e quindi anche delle credenze religiose mentre fa questo però sottolinea in un punto che gli intolleranti non possono essere tollerati quindi in quel caso lui è inglese appunto si muove nell'ambito delle vicende politico-religiose del suo tempo in Inghilterra e dice ecco chi non deve essere tollerato in uno stato tollerante gli atei e i cattolici i cattolici perché lo ricordo lo sapete già lo so ma i cattolici perché sono ritenuti gli intolleranti sono pericolosi perché loro hanno storicamente rivelato intolleranza proprio quel principio di universalizzazione di proselitismo universale a cui facevate cenno nonché bellicosità forti dell'appartenenza ad un altro stato perché esisteva uno stato lo stato pontificio che era l'autorità suprema per il cattolico anche qualora egli vivesse fuori dal territorio pontificio e gli atei e questo è ancora più interessante perché gli atei sono proprio contro natura cioè non hanno quel natura quindi anche qua antropologicamente c'è un'idea dell'umano che per natura ha il suo sentimento religioso che è fondamento comunque anche nello stato liberale di solidarietà fratellanza e chi non ha questa chi non ha un credo religioso finisce col perdere con di e col logorare questi criteri che sono politicamente invece molto importante ecco questo piccolo prememoria era solo per dire che vedete dunque c'è una serie di contingenze locali relativamente recenti poi c'è un fondo antropologico estremamente complesso che riguarda appartenenza e identità e poi c'è un tema che ci riguarda che sintetizza questi due elementi e che è il grande problema secondo me oggi e del futuro per l'Europa almeno ma non solo che è il problema della nostra storia politica europea cioè noi siamo l'Europa con tutti i suoi pasticci con le sue catastrofi però è la culla di una idea di convivenza di tolleranza di liberalismo anche e quindi a suo modo di democrazia rappresentativa eccetera che è oggi interpellata secondo me proprio con forza da queste questioni quindi dal mio punto di vista nessuna rispetto alla domanda che mi ponevate no ma è questo quell'altra strada c'è una questione teologica alle spalle oppure in realtà c'è un fondo razziale nessuna delle due risposte secche si può dare c'è un incrocio di questi temi ed è questo il problema e secondo me la domanda politico-filosofica che ma proprio civile che ci interpella con un'urgenza assoluta ma io sono certa che sia questione di qualche decennio ma lì bisognerà risolverla è che cosa intendiamo per democrazia che cosa intendiamo per diritto che cosa intendiamo per convivenza in una storia politico-culturale filosofica come quella europea che è come dire la culla di questi problemi ma che deve confrontarsi col presente e in questo senso secondo me la cartina torna sole sono le migrazioni cioè i processi migratori sono la vera sfida delle nostre democrazie delle nostre idee di libertà delle nostre idee di ritto dentro quello che infatti diventa la cartina al tornasole cioè certo gli eventi fatti del 2001 prima la decolonizzazione significata a flusso migratorio oggi noi siamo di fronte nuovamente ad un immesso processo di migrazione che semplicemente come dire riattiva e rende manifeste le necessità di appartenenza identità convivenza e problemi con una differenza secondo me questa è proprio un'opinione personale che non si torna indietro cioè che noi non siamo di fronte a un processo a una fase migratoria che poi si arresterà secondo me è proprio cambiato il modo di stare degli esseri umani su questo pianeta le ragioni sono economiche culturali politiche ma non si torna indietro comunicative per cui noi dovremo capire come sapremo essere un'umanità migrante sul pianeta e essere un'umanità migrante significherà confrontarsi col tema delle differenze delle convivenze laddove forse l'unico universalismo che può reggere forse pur essendo universalismo quindi in qualche modo una forma totalizzante una proposta totalizzante con il margine di agonismo che questo implica ma l'unico universalismo agonale che si può in quest'ottica proporre è quello di un universalismo delle differenze cioè riuscire a fare una battaglia culturale perché diventi vissuto dalle persone esperito il fatto che più si è diversi più si è forti e che l'identità si costruisce nella relazione con le differenze più cose eventi luoghi manifestazioni diverse io posso come dire incontrare nel mio orizzonte nelle mie esperienze più scoprirò nel gioco delle gibigiane degli specchi chi sono io che poi io sono qualcosa che diventa cioè chi diventerò io no? chi diventerò io questa è l'unica cosa che io riesco a pensare di fronte a problemi così vasti forse che non si possano esaurire ecco certo in una breve chiacchierata come quella che noi intendiamo fare posso aggiungere solo una cosa e poi andiamo a chiudere ma proprio rapidissima è una suggestione che mi viene da proprio alle prime battute di Awa e che ci consentono proprio di no? di chiudere questo nostro stimolante incontro tu Awa proprio all'inizio hai parlato di hai accennato alle confusioni terminologiche che si fanno e concettuali no? musulmano cioè l'uso del concetto della parola musulmano interscambiato usato come sinonimo anzi mi riformulo l'uso della parola islamico come sinonimo di musulmano dove come giustamente Awa ha sottolineato ci sarebbe da aprire delle parentesi non solo quadre ma graffe e quant'altro e perché questo? perché secondo me di mondo musulmano oggi si parla molto ma si conosce ancora poco no? si conosce o meglio si conosce a prescindere avrebbe detto qualcuno per fare una situazione ben poco aulica no? o forse aulica dipende dai punti di vista e a mio avviso purtroppo l'eurocentrismo a cui anche accennava Florinda e l'etnocentrismo della nostra formazione scolastica ha contribuito non poco a generare no? questa scarsa conoscenza per fortuna e qui proprio l'ultima chiosa finale no? negli ultimi anni l'approccio storico l'approccio storiografico l'approccio delle varie discipline sta cambiando no? un po' e si sta imponendo la tendenza di affrontare le questioni sotto prospettive più globali più multidisciplinari più interdisciplinari che è un po' quello che noi stiamo cercando di fare con il nostro corso di laurea no? quindi guardare le problematiche attraverso tanti occhi e tante prospettive diverse questo probabilmente riuscirà nel corso del tempo chi può dirlo se più o meno breve ad arrivare a quello che tu dicevi Florinda cioè all'accettazione anzi della diversità a 360 gradi ma alla base di tutto ciò ci deve essere una conoscenza piena e purtroppo ribadisco il nostro eurocentrismo il nostro etnocentrismo che ha caratterizzato la nostra formazione scolastica sicuramente non ha aiutato a superare questi limiti non so se siete d'accordo o meno ma questa è veramente sì io parlerei di valorizzazione della diversità non solo accettazione cioè quando riusciremo a fare esperienza della diversità come di una forza come la forza che ci resta insomma beh allora questi problemi sfumeranno più che accettazione è la parola valorizzazione conoscenza e valorizzazione della diversità vai Aua vedo che avevi la mano alzata poi viviamo cosa che volevo dire è anche l'immagine il linguaggio le cliché che abbiamo sono perché siamo vittime di un discorso mediatico sull'islam che non è cambiato da 1979 con la rivoluzione in Iran siamo lì con la stessa paura e la paura la risposta alla paura è creare ancora più paura e non accettazione e soprattutto curiosità verso l'altro bene direi che abbiamo concluso anche questo incontro io vi ringrazio per gli stimoli che sempre vengono dalle nostre chiacchierate e saluto coloro i quali ci ascolteranno e ci vedranno e l'invito ovviamente a entrare in contatto con noi ok col nostro corso di laurea arrivederci a tutti e arrivederci a presto a presto ciao 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 arrivederci